la zona di là Sì, mi faccio fare con le zone a 400 per la legione perché a 50 non è davanti dalla vostra, è una prossima via di 50 euro. Adesso l'abbiamo già con la legione. Vai, 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 anticipa la zona. Vai, 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 vai. Sì, mi faccio fare con le zone a 500 euro. Sì, mi faccio fare con le zone a 100 euro.